La paregite per l'audace Cerignola non si ferma neppure in terra campana. Dopo l'autosuicidio di Potenza, avanti di due gol e si sono fatti rimontare, i giallobluofantini vengono bevati nel finale da una Turris Maidoma e che per le occasioni avute avrebbe meritato ovviamente la vittoria. Di contro i giallobluofantini non si sono certo fatti apprezzare per la dinamicità in campo e con poche idee in attacco è una difesa ballonsolante. Parte forte la Turris, De Vellice valisce subito il gol del vantaggio locale ma Krapikas la mette in corner. Successivamente al diciannovesimo una punizione dal limite di Koum parata dal portiereofantino. Per vedere la prima deniozione gialloblu si deve aspettare il ventisettesimo, punizione di Zacca Ruggero, palla alta. I cinque minuti finali del primo tempo vedono prima un rigore chiesto dalla Turris per un mani di un gialloblu e poi a sorpresa il vantaggio pantino con la firma di D'Andrea su cross di Tascone. 1-0 a Udacia Cerignola. Nel secondo tempo la Turris ballisce l'1-1 con la palla fuori di poco. Stessa soluzione anche per Contessa al ventiduesimo. Trentunesimo rigore per la Turris ma il tiro di maniero viene parato da Krapikas. Al novantunesimo lo strameritato pareggio campano con Micelli su cross di Daniele con Krapikas che non la trattiene. La classifica langue e non c'è da stare allegri, fin troppo. Si cerca il riscatto in casa il prossimo 3 dicembre al Monterisi contro il Vicerno. Vincente 2-0 sull'Avellino.